Un contrappello all'appello dell'ex professore ordinario di economia politica e dell'Università di Camerino Alessandro Monti da sempre inspiegabilmente critico nei confronti della nascita all'Aquila all'interno del settecentesco palazzo Ardinghelli restaurato con fondi della Russia di una sede distaccata del Maxi di Roma, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. A sottoscriverlo è l'Associazione Italia Nostra all'Aquila che difende così il progetto di ospitare una sede distaccata del Maxi in città come nuova linfa per la rinascita culturale e sociale del suo centro storico ma anche di tutto il territorio. Italia Nostra fa un appello a tutte le associazioni aquilane a firmare un contro documento a sostegno del museo e si rivolge direttamente al Ministro della Cultura Bonisoli al quale chiede di non tener conto dell'appello del professor Monti e di procedere sulla strada della promessa apertura entro l'anno della sede distaccata del Maxi a Palazzo Ardinghelli. Noi siamo assolutamente favorevoli alla sede distaccata del Maxi all'Aquila perché sarebbe ora che l'Aquila si sprovincializzi una volta per tutte. Quindi noi riteniamo che il Maxi all'Aquila sia una grossa risorsa, ciò non toglie che poi il Maxi, come è stato detto ufficialmente anche al sottosegretario H, coinvolgerà le istituzioni e gli enti locali. Il Maxi all'Aquila si farà e sarà aperto entro l'anno. Il sottosegretario e beni culturale Gianluca Vacca smorza così le polemiche sollevate dal professor Monti, il quale vorrebbe che il palazzo restaurato dai russi venisse affidato invece al Polo Museale d'Abruzzo. Prima adesioni all'appello di Italia Nostra arrivano già dal direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila Marco Brandizzi, ma anche dall'Associazione Musei d'Abruzzo e dalla rivista Musei.